Grazie a tutti. 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 Buon tocco per Daniel, Daniel prova ad avanzare, insiste sulla trama con Daniel Maldini che adesso arriva davanti alla mano, il tiro! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bella palla in avanti per Maric. Grazie a tutti. Molto, molto bene Daniel Maldini che ha soganato Sergio Hernandez che ha potuto liberare finalmente il sinistro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.